mobile world congress 2017 non solo smartphone ma anche degli accessori molto originali come questa si chiama gyroptics o se volete noi lo chiamiamo gyroptics anche se in realtà è una società di origine francese che cos'è è un accessorio da inserire sul vostro iphone perché funziona con la light in port e trasforma il vostro smartphone in una fotocamera a 360 gradi allora è già disponibile per la vendita online il prezzo di 249 euro ma la particolarità di questo oggetto è una sola vedete voi essenzialmente potete scattare foto o girare video a 360 gradi le foto sono in qualità 4k i video sono in qualità 2k ma la cosa più forte è che questi oggetti e questo oggetto vi permette anche di fare un live su youtube al momento facebook non è ancora compatibile ci stanno lavorando è un problema di facebook non di questo oggetto che sarebbe già pronto per lo streaming in tempo reale anche sui social network però al momento potete utilizzarlo senza alcun tipo di difficoltà per lo streaming a 360 gradi utilizzando youtube vi ricordo disponibile online a 249 euro al momento solo ed esclusivamente per chi ha un telefono iphone perché l'attacco è quello di della light in port che ben conosciamo è una versione android è in preparazione arriverà quanto prima già rotti dunque dal mobile world congress di barcellona